Eccoci, stasera siamo in direzione Lecce. E solo per rendersi conto di quanto è grande, questo è un tron completamente cavo e una persona può comodamente starci dentro. C'è qualche ripresa che provo a fare dall'alto, ma non so, non abbiamo ancora un drone, quindi non so che... Siamo arrivati, finalmente, alla famosa Polignana Mare in centro! Siamo arrivati!